Sabato 20 novembre, dalle 10 alle 17, in modalità ibrida, in parte in presenza, in parte online e in diretta streaming, torna 21 minuti Dialoghi sul futuro, tredicesima edizione della conferenza internazionale itinerante dedicata alle idee in grado di ripensare e migliorare il mondo. Focus dell'edizione 2021, le conseguenze drammatiche del climate change, dei cambiamenti geopolitici e sociali e della crisi sanitaria in corso. La conferenza promuove la costruzione di un nuovo approccio che, con l'interazione tra filosofia, arte, scienza ed economia, faccia emergere i valori e le competenze necessarie affinché ciascuno possa essere agente di cambiamento, orientando il pubblico con una serie di interventi di speaker e motivatori, in un percorso di conoscenza interiore capace di tirare fuori il meglio e far emergere la consapevolezza di sé. Patrizio Paoletti è l'idiatore chairman dell'evento. Un uomo più consapevole, oggi lo sappiamo, diventa un uomo modello e poter modellare noi stessi sulle capacità che altri hanno già mostrato in modo eccellente ci facilita la vita, ci facilita il miglioramento. Ci facilita anche quella quotidianità dove ci viene richiesto, appunto, di essere il noi migliore di noi. Quindi 21 minuti si concentra su questo. Il metodo, poggia su solide basi scientifiche, messo a punto dalla Fondazione Paoletti e dalla RINE, d'Istituto di Ricerche e Neuroscienze, entrambi fondati dallo stesso Paoletti, è stato validato dalle ricerche in ambito neuroscientifico e dalle collaborazioni con scienziati, istituti e università internazionali, tra cui la Sapienza di Roma, la Barillan University di Tel Aviv e il CNR. Ho incontrato Michael Gazanica nell'84, giovane ragazzo, con un trafiletto fantastico dove parlava dell'interprete che è un'area qui nel paritale sinistro che continuamente si occupa di dar senso agli eventi sconnessi della nostra quotidianità e da allora le neuroscienze sono diventate la mia quotidianità. Ho incominciato a interessarmi sempre di più di neuroscienze fino nel 2000 a dar vita alla Fondazione Paoletti e poi a RINE, che è l'Istituto di Neuroscienze con cui ormai da vent'anni collaboriamo con le più importanti e prestigiosi università del mondo parlando e indagando di come la mente funziona e di quali sono gli spazi, gli ambiti del nostro possibile miglioramento. Un'indagine sul divenire dell'uomo e sulle sue possibili espressioni condotta grazie alla presenza di premi Nobel, scienziati, artisti e imprenditori, oltre 150 in 13 anni, che accettano la sfida di raccontare e condividere i valori che ispirano la loro vita. Questa è la parte più bella dal punto di vista dello speaker perché viene sfidato dalla nostra equip a conoscersi di più per potersi raccontare meglio. E infatti tanti ci ringraziano dicendo per me esiste una vita prima di 21 minuti e una vita dopo. E a parte gli scherzi abbiamo anche tanti speaker che dopo 21 minuti hanno in 21 minuti trovato un importante trampolino di lancio per loro e hanno ulteriormente scalato l'everest del successo posizionandosi non più sul campo base ma molto più in alto. Le idee hanno potere se condivise, le idee hanno potere se accolte.